5 anni di sviluppo, 5 anni inglese e veri, 5 anni di duro lavoro, mille di anni si metteranno i nostri concorrenti ad eguagliare questa tecnologia, avete visto l'architecnica, mi avete sentito parlare, ma nessuno sapeva più di tanto, ma intanto noi progettavamo, lavoravamo, testavamo, lì che ora vamo, nato dalla polvera, che si genera nelle condizioni di lavorazione, tutti dalla forza, di forza, con voglio di grande nome, ora per voi il nuovo capolavoro tedesco, ben il levario! ...196 cavalli, fino a 517 cavalli, FED 1000 Bario crea un nuovo segmento di mercato.